Sì, tiriamo il tuo perché il mio è sfigato. Non l'ho mai vinto un dato. No, ha già vinto Giallo. Uuuuh! Vabbè, grande Momo. A uno. Va bene. E c'è abbastanza il dato. Già solo il lancio del dato è più interessante delle altre partite. Buon game. 6-6-2-1. Si può partire? Sì, sì. Va bene. Sì, puoi partire da dentro. Vai Walter. Allora, Triosama l'hai voluto tu, 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 arma segreta. Ah, ho ticapato io prima. Eh, sì. Ho ticapato io prima. Ho ticapato io prima. Ho ticapato. Vabbè. È tutto il momento giusto. Bellissimo. Ticapato io prima. Ticapato io prima. Ticapato io prima. Sì, sì, recommandolo. Vai. Apro Evo cos'ora Va bene Proviamo Proviamo a fare questo scherzo Mi parte così Spade, questo è bello, deve essere bello Eh, infatti Fatti mozzo, furbacchione Furbacchione Mosso Passo Vai, primo turno Penso in end Sì, sì, pensi in end Scusami Perdonami No, perché se lo prendi non posso attivare le gare No, no, perdona Vuol dire che ha risolto Sì, sì Ah, vai Stiamo avendo un site event A eliminazione diretta Da 10 euro Prendiamo 8 persone Iscrizione adesso Magari fai così Eh, io però gioco comodo Vai, metti Fai così allora Eh, devo vedere le carte Fai così Fai così, mostro Perché ho bisogno di vederle Quindi poi ha risolto Ok, vai Quella mi torna Ah no, non mi torna Quella Sì, sono pezzi Fai E' vero 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 Cazzo Cioè 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 Ha una mano così brutta Che metti Morphin Di primo turno Ah, va bene Vai Vabbè se manca uno sì, se no no poi dovrà dare la partita vabbè ti abbassi sai cosa succede però in realtà tu puoi mostrare che lui incatena l'altro tirò il giame e hai il giame quello fa male vieni si è finita la partita si si adesso lo faccio adesso lo faccio adesso lo faccio cosa entra? crane no ma aspettavo un thunder dragon così potete avere ballo no, quello devi sacrificare poi metta così te le prendi tutte cosa è andato al cesso? due botti beh sono dei spari però piccoli non devo preoccupare non devo preoccupare non devo accettare non devo accettare non 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 ma No, pubblica, così tutti mi copiano al massabrutto. Ma quando? Non ora. Nei prossimi giorni. Ci sono dei giorni dove fanno vederla top 8 in top 8? Io no. Ok. Ti va bene, ma ti fanno tutti i giorni. La carta è una, giusto? Sì. Min. Dove va? Prima mi vieni, con un bel fettirotto non ci metti. Va bene. Devo coccarare. Certo. Ciao. Entra. Entra. Sparo le spade. No, dopo tu fa, dopo tu. Vieni. Vieni. Atacco. Questa è un tiro, però. Vieni. 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 Passo. Vieni. 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 Questa. Sì. Spare qua. Bucca Vai Pesca Battle Bit Pesca Passo Tocco la morve Sì 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 Cingu Gioca tipo 13 mosi sto mazzo Quattro Buono 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 Carta e 5 giusto Le 5 che ho pescato Sì sì solo le 5 Non volevo settare un altro per beccarmi tempesta Ci sta Nella becco comunque ma va bene Sì Sì Ci sono caos dai Ok Vi ha rapto Sì però vet così Cioè che sono qua No Ok E rimuovi Sì sì Ok Bit Sì 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 Grazie 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 Posso vedere il cimitero per piacere Ciao Ah l'avevo detto io Va bene Dov'è Walter? Dov'è Walter? Dov'è Walter? Certo Raga per favore Sapevo io che devo fare Walter Lui quando fa il ritorno totale vuol dire che ha vinto Ma è proprio matematico In realtà no Questa no non ha senso Non è come pensi te Cioè Avrebbe senso se non avessi pescato una mano di merda Solo che non posso lasciarti quell'aborto lì Tutto qui Ah vuoi essere sicuro di C'avrai tre book, tre enemy e tutte le cagate varie Per dentro E così E quindi Questa è vera E quindi Grazie a tutti. 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 Vai a 3.100. Grazie a tutti. 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 Sì. Tocco. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto? Quanto? Vai. va bene. va bene. non so come ha fatto. Adesso lì? c'è da 3. perché... qua a fare... ha massacrata. vai vai... ma... ma... vai... vai vai... non è una partita... ma... ma... vai... c'è... vai... 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 ma... ma... si... si... vai... 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 ... vai... sei... vai... 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 va... Siamo chiusi? Sì, ho chiuso, foto Laster, Laster Tribe, finito.